Ed ecco le 10 impostazioni da abilitare sul tuo iPhone. Forse non le conosci e non conosci la loro importanza e quindi andiamole a scoprire insieme. Scarica iAppZain su App Store, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire ogni giorno tutte le Apple News su nuove uscite di aggiornamenti iOS e non solo. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store, gratis. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare delle 10 impostazioni da abilitare sul vostro iPhone per avere un utilizzo migliore o sfruttare nuove funzionalità. Ma bando alle ciance ed andiamo subito a parlare della numero 1. La funzione numero 1 è Apple Intelligence. Ah no, vero, Apple Intelligence non esce in Italia ancora. Scusate, una piccola provocazione a Apple e Unione Europea, perdonatemi, perdonatemi. Allora, iniziamo sul mio iPhone 16 Pro Max a vedere cosa abilitare. Per prima cosa ragazzi, tramite il centro di controllo, e vi ricordo con il nuovo iOS 18.1 in uscita per tutti il 28 ottobre, sarà possibile inserire sia il toggle del Wi-Fi e sia il toggle cellulare, che ovviamente si vanno ad aggiungere a tutti gli altri toggle che sono già disponibili. Piccola precisazione, non esiste ancora il toggle del Bluetooth, quindi stiamo attendendo ancora Apple che inserisca questo piccolo pulsantino, però nelle prossime versioni di iOS 18 dovremmo vederlo molto probabilmente. Poi andiamo su impostazioni, andiamo su accessibilità e andiamo su... su, 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 dove, dove, abbreviazioni vocali. Noi possiamo inserire un'azione per richiamare Siri invece di chiamarla Siri, perché Apple con il nuovo iOS 18 ci dà la possibilità di modificare il nome di Siri. Possiamo chiamarla in qualsiasi modo, c'è chi la insulta, c'è chi la chiama in modi bruttissimi. Io personalmente ho messo Jarvis, ovvero l'assistente virtuale, l'intelligenza artificiale di Iron Man, che per me è fighissimo. E i passaggi ragazzi sono semplicissimi, basta andare su aggiungi azione, successivamente configurare Siri, chiedendo al cerca di cercare Siri e selezionando Siri sistema e qui inserire il nostro comando. E una volta inserito testualmente il nuovo nome, verrà richiesto di dirlo tre volte vocalmente, e quindi, beh, Siri cambierà nome ragazzi. Poi siamo sulla home screen, terza impostazione da abilitare, ovvero le icone in dark ragazzi. Andiamo in più, in alto, a sinistra, personalizza e invece di chiaro abilitiamo il tema scuro. E voi direte, perché Mirko bisogna abilitare il tema scuro delle applicazioni? Perché la schermata delle applicazioni è quella che viene visualizzata maggiormente, perché voi accedete alle app e quindi è quella che durante l'arco della giornata visualizzate ovviamente di più, vuoi o non vuoi, aprendo e chiudendo app. E tutti i nuovi modelli di iPhone hanno gli schermi OLED, e quindi avere le applicazioni con uno sfondo nero fa risparmiare batteria. Se avete tutte le app con sfondo nero e accendete molto spesso la home screen, è ovvio che ci sarà un risparmio energetico giornaliero. E inoltre, vi dirò di più, la dark mode non nasce solo per questo, nasce per far riposare gli occhi, quindi nelle ore serali, avere quelle icone in scuro fanno veramente bene alla nostra vista. Ora, andiamo all'interno delle impostazioni, andiamo su suoni e feedback aptico e abilitate questa impostazione, modifica con tasti. Molte persone mi chiedono, Mirko, ma come faccio ad alzare il volume generale di tutto iPhone semplicemente con i tasti, senza badare a applicazioni, app musica, suonerie, eccetera. Se abilitate questa impostazione, ogni qualvolta voi alzate ed abbassate il volume, in automatico alzerà ed abbasserà il volume della cosa che state utilizzando. Esempio, l'applicazione in cui siete in quel momento, la musica che state ascoltando, ma tutto insieme. Questo vuol dire che l'audio di iPhone si unificherà e verrà modificato semplicemente dai nostri tasti o dal centro di controllo, senza dislivelli tra app, suoneria, eccetera, eccetera. Tutto in modo uguale. E punto numero 5, sempre in questa schermata andiamo su feedback aptici, ma non questi qui, ma feedback aptici tastiera. Se voi abilitate questa impostazione, ovvero feedback aptico, ogni qualvolta scrivete con la vostra tastiera su qualsiasi applicazione, il vostro iPhone risponderà con una leggera vibrazione che incrementa la precisione nella vostra scrittura, che è una cosa fondamentale oggigiorno, scrivere bene e non sbagliare, no? Andiamo poi alla numero 6, torniamo all'interno delle impostazioni, andiamo su accessibilità e andiamo sulla sezione movimento. Abilitiamo riduci movimento. Ora vi faccio vedere la differenza. Senza riduci movimento, se noi apriamo le applicazioni o chiudiamo le applicazioni, emettono delle animazioni, chiaramente. Ma se noi abilitiamo il riduci movimento, queste animazioni vengono tolte. E addirittura abbiamo anche transizione con dissolvenza. Riduce il movimento dei controlli dell'interfaccia utente che scorrono quando vengono mostrati e nascosti. Quindi anche il centro di controllo, boom, velocissimo. Questo ovviamente sarà anche un boost di batteria durante l'arco della giornata, perché il consumo, chiaramente, delle animazioni sarà minore, il tempo sarà minore. E quindi impostazione numero 7, sempre all'interno delle accessibilità, scorriamo, scorriamo, scorriamo e andiamo su feedback aptici musica. Se noi abilitiamo questa impostazione, sia per l'applicazione Apple Music Classic e Apple Music e anche con Shazam, emetterà una vibrazione a ritmo di musica. Diversa per ogni brano musicale e, chiaramente, con una sensazione incredibile. Se non l'avete ancora provata questa funzione, provatela, perché se amate la musica è spettacolare, ragazzi. Dà proprio una vibrazione che si incanala dentro di te mentre ascolti la musica. È obiettivamente figo. Impostazione numero 8, sempre all'interno delle accessibilità, andiamo, andiamo, andiamo in giù e andiamo su Siri. E su Siri abilitiamo Rileva sempre Siri, che ci permette di rilevare Siri e dei Siri ogni qualvolta vogliamo. Ovvero quando iPhone è sotto sopra, quando è coperto da qualcosa, credo l'abbiamo ficcato in uno scaffale, eccetera, rimarrà sempre attiva la nostra Siri. Penultima impostazione da militare, numero 9, andiamo su impostazioni e poi fotocamera. Andiamo a scegliere i formati che sono in questa sezione delle impostazioni e poi, invece di efficienza elevata, utilizziamo la funzione più compatibile. Questa funzione, quando noi registriamo video, scattiamo foto, comunque abbiamo un utilizzo della fotocamera a 360 gradi, ci fa risparmiare praticamente tantissimo spazio. diminuisce di pochissimissimo la qualità, ma fa tantissimo, ragazzi, perché rende i file, quindi i video e le immagini, veramente più leggere. E sulla memoria del vostro iPhone, grava veramente molto meno. Però si parla chiaramente di tutte le foto, i video che scattate e girate, subito dopo aver abilitato questa impostazione. Quindi non è che magicamente tutte quelle che avete già su iPhone cambiano, ma tutte le prossime, chiaramente, avranno uno spazio minore sulla memoria. Andiamo poi alla decima ed ultima impostazione da abilitare, solo per i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Andiamo su Impostazione e poi Accessibilità e qui andiamo a cercare la funzione, dove è Controllo fotocamera. All'interno di questa sezione dovrete abilitare la funzione Controllo fotocamera e poi Pressione leggera e Scorrimento. Sapete perché? Perché di default il controllo della fotocamera, purtroppo, non ha la pressione sufficiente o le impostazioni di default. E io, infatti, lo dirò nella recensione finale di questo nuovo smartphone e di questo che è arrivato proprio oggi, dicendo proprio questo, se tu non abilitai queste impostazioni di default non ci sono e il funzionamento, il click primario e secondario del tasto sono un po' macchinosi entrambi, c'è Apple. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se avete un nuovo iPhone abilitate questa nuova impostazione. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali impostazioni avete abilitato e quali no e in che modo vi sono servite. Io, come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, ovviamente, per aver visto questo nuovo video. Come al solito, arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. A presto! Grazie a tutti.